È la notte di un lunedì di febbraio del Novecento e il Giappone sta per compiere un attacco a sorpresa ad una delle basi navali strategicamente più importanti del Pacifico e lo sta facendo ancora prima di dichiarare guerra. No, non ho sbagliato titolo o video e non sto parlando di Pearl Harbor, ma dell'attacco a Port Arthur, quell'attacco che dà inizio alla guerra russo-giapponese, che nel 1904-1905 dimostrerà al mondo come l'impero del Giappone era ormai diventata una potenza mondiale in grado persino di sconfiggere un impero occidentale. Un evento non troppo conosciuto ma fondamentale, tanto da considerarlo, secondo molti storici, come un preludio alla prima guerra mondiale. Andiamo a scoprirlo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati. Io sono Michele Gamba e questo è Storico. Bene ragazzi, eccoci nella seconda parte del video sulla guerra russo-giapponese. Se vi siete persi la prima, se volete conoscere il quadro generale e le cause che portano alla guerra, vi consiglio di andare a riperscarlo. Ve lo metto qua. La scorsa settimana ci siamo lasciati con le tensioni tra l'impero del Sollevante e l'impero russo, che all'alba del secolo scorso erano ormai incontenibili e la guerra era diventata inevitabile. Gli alti comandi russi stavano infatti tirando troppo la corda nei contatti diplomatici con i giapponesi perché persuasi che la loro grande disponibilità di uomini e risorse sarebbe bastata da sola a far desistere il Giappone. A dirlo tutta poi, i russi erano anche annebbiati dalla loro credenza razzista di essere superiori agli asiatici e che questi, essendo secondo loro popolazioni inferiori alle potenze occidentali, in caso di una guerra non avrebbero avuto possibilità di vittoria. Perciò, dal momento che i russi erano convinti di avere a che fare con un popolo arrendevole ed inferiore, quando una notte dell'8 febbraio 1904 avrebbero visto le navi giapponesi fare fuoco su uno dei porti più importanti del Pacifico, potete stare certi che sarebbero rimasti increduli. Prima di iniziare vorrei chiarire che l'inizio della guerra, anche se seguito con interesse dalle diplomazie europee, non fa troppa notizia in Occidente, in quanto si inseriva nel gioco imperialista ormai decennale delle potenze del mondo. E per questo nemmeno l'attacco a sorpresa prima della dichiarazione di guerra ufficiale fa troppo scalpore. La cosa però che forse desta più interesse è che stavolta a fare la prima mossa era una nazione asiatica e non una europea o americana. Ma veniamo alle operazioni militare. Con l'aiuto dell'oscurità, la flotta giapponese capitanata dall'ammiraglio Togo Heachiro, l'8 febbraio 1904 si avvicina a Port Arthur, con l'obiettivo di sfruttare la maggiore maneggevolezza del cacciatore pediniere per avvicinarsi il più possibile alle navi che erano attraccate fuori dal porto, colpirle con precisione e gettare nello scompiglio le difese russe. Nonostante il piano funzionasse sulla carta, nella realtà però le cose si complicano e l'attacco a sorpresa finisce per provocare l'affondamento solo di un incrociatore e due corazzate russe, mentre il resto della flotta riusciva a ritirarsi all'interno del porto, protetta dalle difese costiere e dalla stretta imboccatura naturale. Il giorno seguente quindi Togo Heachiro dovette quindi fronteggiare la flotta russa in piena allerta e per di più barricata all'interno del porto e ben presto la difficoltà dell'operazione avrebbe costretto i giapponesi a portare a largo le proprie navi. fuori dalla gettata dai cannoni di difesa costiera, liberando così le vie d'accesso al porto. Le navi russe erano praticamente libere dal blocco navale a questo punto e avrebbero potuto contrattaccare o fuggire, ma i comandi russi, forse per prudenza o mancanza di acume, decidevano di mantenere le posizioni difensive in attesa dei rinforzi. In realtà il controllo del mare era un aspetto fondamentale della riuscita dell'intero piano di guerra giapponese, senza il quale il Giappone non sarebbe riuscito a sbarcare sul continente prima e a rifornire i suoi eserciti dopo. Inoltre per il Giappone era essenziale muoversi rapidamente, conquistando i maggiori punti strategici in Manchuria e negli Aodong, prima che la Russia potesse riorganizzarsi e imporre la sua nota superiorità numerica. E' proprio per questa necessità che i comandi giapponesi decidono l'azzardo, sbarcare nonostante la mancanza di un controllo navale effettivo. Questa si rivela però una scelta corretta, perché i giapponesi, grazie alle indecisioni delle navi russe bloccate a Port Arthur, riusciranno comunque a sbarcare in Corea e se a Port Arthur l'obiettivo di neutralizzare la flotta nemica ottenendo il pieno controllo dei mari era fallito, ecco che proprio sulla terraferma le cose andranno fin da subito diversamente. In Corea l'esercito giapponese incontra pochissima resistenza e due mesi dopo si trovava già ai confini con la Manchuria. Qui e precisamente sul fiume Yalu il primo maggio 1904 si combatte il primo grande scontro terrestre vero e proprio tra due nemici e si consuma la prima vittoria dei giapponesi. Ecco vorrei precisare che questa non rappresenta una vittoria sul piano tattico militare troppo decisiva, soprattutto se si considera la strategia dei russi di ritirarsi evitando grosse perdite e stancando l'emico in lunghi inseguimenti, ma si tratta di un successo fondamentale sul piano psicologico, motivo per cui appunto ve la sto ricordando. Si tratta infatti della prima vittoria militare del Giappone, una potenza asiatica, contro la Russia, un impero occidentale. Una sconfitta che inizia a far traballare le convinzioni di superiorità razziale dell'esercito dell'impero zarista e una battaglia dove i russi conoscono per la prima volta la ferocia e la determinazione giapponese. Questi due elementi incideranno sul morale di un esercito, quello russo, che già iniziava a mostrare grossi problemi, come ad esempio il cattivo equipaggiamento e la scarsità delle relazioni e che inevitabilmente condizioneranno in misura sempre maggiore il corso della guerra. Nei mesi successivi il Giappone avanzerà sempre di più e di contro la Russia continuerà a ritirarsi in attesa dell'arrivo dei rinforzi da occidente. Il vero problema è che l'invio di nuove truppe al fronte del Pacifico risultò fin da subito lento e laborioso, sia per via della continua sottovalutazione del nemico da parte degli alti comandi russi lontani dal conflitto che se ne stavano in occidente vicino all'Europa, sia perché la transiberiana era allora munita di solo un binario, limitandone quindi la capacità di trasporto. In ogni caso, nel frattempo, quindi siamo sempre nella primavera del 1904, le cose iniziavano a muoversi anche a Port Arthur, ma non sul piano marittimo, bensì anche in questo caso sulla terraferma. Infatti qui la seconda armata giapponese, sbarcata anch'essa nella penisola degli Adong questa volta, cingeva ora la città fortificata del Porto, che a questo punto si trovava stretta in una tenaglia terrestre marittima. L'ostacolo più grande era rappresentato dalle fortificazioni sulle alture collinari, che qua vedete in una fotografia, e che difendevano il Porto, dove i russi avevano diverse postazioni difensive. L'abbattimento delle difese sulle alture di Port Arthur era un'impresa estremamente difficile, che impiegò mesi per essere portata a termine, ed è questa una fase della guerra veramente impressionante, caratterizzata da cariche dirette alle postazioni russe, cannoneggiamenti continui, e da scavi di tunnel e trincee, con l'obiettivo di avvicinarsi, metro dopo metro, giorno dopo giorno, alle fortificazioni nemiche. Dopo mesi di feroci combattimenti, il Porto cade in mano giapponese il 2 gennaio 1905, e il grosso delle guarnigioni russe si ritirava verso la città di Mukden, capitale della Manchuria, e cuore strategico dell'intera regione. Con la resa della città, anche le navi che ormeggiavano protette nel Porto, ora non ebbero altra scelta, se non quella di levare le ancore, e fuggire il più rapidamente possibile verso l'altro grande porto russo sul Pacifico, Vladivostok. C'era però un problema. La flotta giapponese di Togo stava aspettando da mesi in questo momento, e così, senza perdere l'attimo, si lanciò subito al loro inseguimento, riuscendo ad intercettare le navi russe prima che queste raggiungessero Vladivostok. Lo scontro rappresenta la prima grande sconfitta navale dei russi, dove le capacità tattiche e la superiorità tecnologica della marina giapponese si resero evidenti e fecero definitivamente capire ai russi quanto fossero sbagliati i loro pregiudizi. La sconfitta è infatti un duro colpo per i russi, che si trovano adesso a sperare, per quanto riguarda la terraferma, in una strenua resistenza nella capitale mancese Mukden, mentre sull'oceano, nell'arrivo e nella vittoria della flotta baltica. Quando le truppe giapponesi raggiungono la capitale della Manciuria, all'inizio del 1905, i russi si trovavano già serragliati nelle loro difese in attesa dell'arrivo nemico e il 10 febbraio gli scontri hanno inizio. Qui si combattono circa 270.000 giapponesi e 330.000 russi, ma al di là delle cifre precise siamo sicuramente oltre il mezzo milione di soldati in totale, spalmati su un fronte di 145 chilometri. La battaglia di Mukden rappresenta la più grande battaglia dell'epoca contemporanea combattuta fino a quel momento, sia per numero di forze coinvolte, che vi ho appena detto, sia per la quantità di perdite e di munizioni sparate. E solo le battaglie della Prima Guerra Mondiale supereranno questo infelice primato. E' infatti questa, la vera battaglia, da sorge in particolare come preludio a quelle della Grande Guerra. Qui il mondo sperimentava per la prima volta le cariche suicide di intere guarnigioni mandate contro il fuoco nemico e l'utilizzo massiccio delle nuove armi in grado di spezzare la vita di molti uomini in poco tempo, come le mitragliatrici e la moderna artiglieria. Come vedete a schermo, le vittime sono circa 89.000 tra i russi e 71.000 per i giapponesi. Chiaramente, anche qui, un aspetto che caratterizza questo tipo di battaglie è l'impossibilità di riconoscere tutte le vittime. Per esempio, molti saranno dispersi, con il risultato quindi di avere delle cifre che oscillano anche di qualche decina di migliaia di persone. Quindi, se vedete cifre che sono diverse, anche di un attimo, anche di 10.000 persone, per esempio, non preoccupatevi. Pensate, si tratta di una battaglia talmente sanguinosa da rendere entrambe le parti sostanzialmente incapaci di continuare una qualsiasi tipo di campagna terrestre. Nonostante la vittoria, infatti, anche le forze giapponesi erano ormai in condizioni precarie tali da inibire un proseguimento dell'avanzata. Ma il colpo di grazia all'impero russo non sarebbe arrivato a Mugden, ma provenne dall'altra forza in campo, la marina. Come previsto, infatti, dato l'andamento degli scontri, i vertici russi avevano deciso di inviare in Asia Orientale la loro grande flotta del Baltico, con l'obiettivo di riottenere il controllo del mare e isolare l'esercito giapponese in Asia Continentale, costringendolo alla resa. Questa decisione era stata già presa a priori prima ancora di Mugden. Infatti, la flotta del Baltico salpava dalla Lettonia già il 15 ottobre 1904, quindi, quando Port Arthur era ancora sotto assedio. Il fatto è che la flotta doveva circonnavigare l'Europa, l'Africa, passare per Vietnam e infine giungere a Vladivostok passando per lo stretto di Tsushima e poi eseguire un attacco a Tenaglia sulla flotta giapponese utilizzando la flotta occidentale e la flotta del Pacifico. Si trattava però di un'impresa estremamente pericolosa e comunque da portare a termine nel più breve tempo possibile. La flotta russa, infatti, doveva guidare lenti corazzate lungo tratti di mare pericolosi, poteva traccare solo nei porti francesi ed essere rifornita da carbone e altri materiali da navi mercantili tedesche, entrambe nazioni alleate della Russia. Qualche peggio è che la flotta era formata anche da vecchie corazzate ormai obsolete che inevitabilmente finiscono per rallentare l'intero gruppo. Inoltre i giapponesi grazie alla loro intelligence e alle soffiate dalle alleate inglese conoscevano con esattezza i movimenti della temibile flotta baltica e la stavano aspettando in Giappone. Così, quando nel maggio 1905 la flotta russa dopo aver raggiunto il mar della Cina si infilava nel pericoloso stretto di Tsushima l'ammiraglio giapponese Togo dava l'ordine di attacco. Come nel caso di Mukden anche stavolta si parla di una delle battaglie più significative e che vede impegnate i nuovi armamenti e corazzate moderne. Per la Russia si tratta di una vera e propria disfatta le navi giapponesi erano di gran lunga superiori per velocità e potenza di fuoco e i comandi del sollevante superavano in abilità quelli zaristi. Pensate nel corso di due giorni di battaglia oltre i due terzi della flotta russa saranno affondati o catturati. Per la Russia ora si trattava solo di tracciare un preoccupante bilancio delle sconfitte porta Arthur Mukden nel Mar Giallo e a Tsushima. In realtà poi se vogliamo essere precisi sulla base dei semplici dati numerici la situazione russa potrebbe anche non sembrare così disastrosa. Se è vero c'erano state molte sconfitte e numerose vittime ma i rinforzi della Siberia stavano in quel momento iniziando a confluire in maniera più o meno costante e il Giappone che ricordo anch'esso riduce di enormi perdite iniziava a perdere il vantaggio conseguito con le sue vittorie. Tuttavia però il morale delle truppe russe era molto basso soldati erano stanchi di combattere in una terra lontana contro un nemico che si era dimostrato più feroce e determinato di quello che si pensasse. Inoltre se sul fronte la situazione era ambilico nel cuore della Russia era ancora peggiore. I prestiti per la guerra concessi più che altro dalla Francia erano ormai insufficienti e sul piano politico e sociale lo scontento popolare era ormai dilagante mettendo in difficoltà lo Tsar stesso. A ragione di questo ricordo che a gennaio del 1905 scoppiava a San Pietroburgo la capitale dell'impero una rivolta passata alla storia come Domenica di Sangue che darà inizio alla prima rivoluzione russa. Ecco alla luce di questi elementi la fine degli scontri con i giapponesi avrebbe rappresentato un sospiro di sollievo per l'impero e per lo Tsar. Dall'altro lato poi anche il Giappone era ben felice di sedersi al tavolo delle trattative in un momento in cui la sua vittoria era palese anche perché la sua situazione sul campo iniziava ad essere problematica. Le enormi perdite avevano spolpato talmente tanto l'esercito giapponese al punto di non rendere possibile nessun altro tentativo di offensiva all'interno della Manciuria. Inoltre la guerra sebbene non eccessivamente lunga era già costata migliaia di soldi al governo giapponese costretto a contrare cospicui debiti dall'America e dall'Inghilterra ed ormai si trovava ad un passo dalla banca rotta. Ecco per questi motivi quando nell'agosto 1905 il presidente americano Theodore Roosevelt invierà le parti a sedersi intorno ad un tavolo e a provare a stipulare una pace entrambi gli imperi accetteranno senza troppi problemi. Le condizioni di pace giapponesi sono fin da subito chiare e prevedono il riconoscimento dell'influenza giapponese in Corea l'evacuazione dei russi dalla Manciuria i trasferimenti dei diritti della ferrovia sudmancese e della penisola di Liodong Port Arthur compreso la cessazione dell'isola Sakalin che qui vedete in una cartina e il totale risarcimento delle spese di guerra. I diplomatici russi avrebbero anche accettato di buon grado tutti questi punti tuttavia è lo stesso Zar Nicola II in persona a dare indicazione esplicita di non consentire a nessuna cessione territoriale e nemmeno a risarcimento. I dialoghi inizialmente si incagliano ma dopo qualche mese di trattative grazie anche alla mediazione inglese e americana sarà finalmente firmato il 5 settembre 1905 il trattato che porterà alla pace e che passa alla storia con il nome di trattato di Portsmouth. Con la pace in definitiva il Giappone otteneva il controllo della penisola delle Odong e di Port Arthur che ora veniva rinominato Riojun della ferrovia della Manciuria meridionale e della metà sud dell'isola di Sakalin mentre la Manciuria veniva restituita al controllo cinese e nessun risarcimento veniva però elargito. Ciò che più importava all'imperatore Meiji è comunque il riconoscimento mondiale dell'influenza giapponese sulla Corea e la conquista dello status di potenza al pari di quelle occidentali. La vittoria poi consacrò la marina giapponese come tra le più forti al mondo e convinse gli stessi giapponesi che grazie alla loro tenacia e alla continua miglioria delle navi il Giappone avrebbe presto potuto superare anche le marine statunitense ed inglese e questa è una convinzione che sarà fortemente alimentata dal nazionalismo degli anni 30 e che inciderà sulla scelta dell'ingresso nella prima e nella seconda guerra mondiale. Ciò che è ancora più importante è che per la prima volta nella storia una nazione asiatica era riuscita ad imporsi con la forza sull'imperialismo occidentale uscendone addirittura vincitrice. L'effetto di questa notizia fu tale da incrinare l'idea di superiorità razziale dai paesi occidentali e infatti grazie anche alla guerra russo-giapponese che si osserva una singolare trasformazione del razzismo nei confronti degli asiatici che da popolo considerato inferiore diventava ora un popolo quasi temuto e questo in particolare in America dove il fenomeno prenderà un vero e proprio nome lo yellow peril ovvero pericolo giallo. Nella terra del sollevante però il popolo giapponese non si mostrava troppo soddisfatto anzi considerava il compromesso rispetto alle riparazioni di guerra e l'altra metà quella superiore quella nord dell'isola di Sakhalin come un vergognoso cedimento del governo per questo motivo a Tokyo scoprirà una vera e propria rivolta nota come Hibiya Yakujishiken o l'incidente di Hibiya italianizzato questa rivolta che verrà poi replicata in altre grandi città giapponese era sintomo del profondo malessere sociale che non trovava ancora appoggi nella politica per mancanza di partiti che ne accogliessero le istanze ma se il popolo niponico era arrabbiato quello russo lo era ancora di più la costosa e umiliante sconfitta lasciò l'impero demoralizzato e irritato per le costose e fallimentari politiche dello zarnico la secondo che non sembrava dare ascolto ai bisogni del popolo più minuto ma sembrava seguire un proprio sfizio imperialista in Russia però a differenza del Giappone una forza politica in grado di fungere da cassa di risonanza delle disperazioni del popolo c'era e stava emergendo sempre di più sto parlando chiaramente dei comunisti che grazie anche alla disfatta nella guerra russo-giapponese aumenteranno i propri consensi ecco che quindi il mondo stava preparandosi ad un futuro molto movimentato un futuro di guerre di rivolte di rivoluzioni un futuro dove i popoli sempre più scontenti prenderanno strade sempre più estreme e che anche se nelle storie non si ricorda mai vede nella guerra russo-giapponese un germe fondamentale bene ragazzi e ragazze abbiamo finito anche oggi il nostro video con questo abbiamo concluso anche la seconda parte del video sulla guerra russo-giapponese una guerra interessantissima e spero che lo sia stata anche per voi se vi è piaciuto il video io vi invito a mettere un bel like e a commentare fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti